A gran richiesta un video incredibile del calcio, oggi sfiderò il portiere con questi palloni incredibili Mi raccomando rimanete fino alla fine del video ragazzi perché ci saranno gol incredibili Arriviamo a 10.000 mi piace e in un prossimo video faremo un mondialito enorme Ciao a tutti ragazzi sono Bella Faccia e bentornati in un nuovo fantastico video di calcio Come vedete oggi ci troviamo veramente in un campo da calcio e tireremo dei rigori Qui con noi ragazzi c'è il portiere misterioso, il suo soprannome è Il Drago Il mio obiettivo sarà fare almeno 20 gol con tutte queste palle strane Sì alcune non è che sono proprio palle da calcio eh Quindi mi raccomando se ancora non l'hai fatto lascia un grandissimo mi piace Perché se raggiungiamo tanti bei mi piace faremo tantissimi altri video di calcio Sei pronto Drago? Vai ci siamo Ci siamo forza Allora come prima palla ragazzi utilizzerò questa, la fitball gigante Vediamo se riuscirò a fare gol Ovviamente scrivete qua sotto nei commentini quale sarà la vostra palla preferita Ok Drago sei pronto? Dai dai Ti farò vedere io ragazzi 20 gol per vincere il super premio Vado Ok primo tiro è stato un fail assurdo ragazzi Ok ultimo tiro per la fitball gigante Mi sto trattenendo Drago eh Adesso ti faccio vedere io Vado Un gol ragazzi Primo gol Ok ragazzi palla asteroide C'è questa qui è piccola quanto il mio palmo Vediamo se riesco a fare gol Secondo me non si vede neanche in video eh Ok vado Ok vado No dai È imbarazzante sta palla Ok riproviamoci Secondo tiro Ci siamo Vai Oh Pronto Drago Pronto Drago Questa volta faccio un tiro a giro Alla Roberto Carlos Oh Sopra la traversa per poco raga Eh me la son cercata Prossima palla La palla rimbalsella Ne vedremo delle belle Ok Drago eh Sei pronto? Dai ragazzi dai Devo vincere il super premio delle carte dei calzatori Vado Oh Non si è nemmeno mosso Secondo tentativo Palla rimbalsella Oh Dai dai Oh Ok ok Il Drago c'è ragazzi Bravo 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 Ragazzi abbiamo un problema La palla rimbalsella Si saluta Si è bucata Ragazzi si è bucata Un minuto di silenzio per la palla rimbalsella E magari un bel mi piace Ah se tu ancora non sei iscritto E non hai attivato la campanellina delle notifiche Male Che cosa stai aspettando? Ok ragazzi La palla dei bimbi di due anni Proviamola Secondo me non faccio neanche un gol eh Ok Drago Qui sicuro Ce la fai eh Vado eh Vai vai Ah ma centrale ragazzi Ma che tiro è? Secondo tentativo Per tutti i bimbi Vai battici impegno Oh Dove l'ho tirata? Mamma mia Let's go Ok ragazzi La palla per fare yoga E' super morbida Secondo me la buco questa Ok Drago ci siamo eh Si deve impegnare Siamo Vado Cosa ha fatto quella palla? Voglio il replay Il cucchiaio abbiamo fatto al Drago Secondo tentativo Io avrei paura posto in te eh Ok ci siamo raga Vado Oh no E' andato dall'altra parte Ok giochiamo a basket No Facciamo un rigore con la palla da basket Speriamo di non farsi male ragazzi E speriamo di non far male anche al Drago Perché ha delle altre partite da fare Ok Drago ci sono Vai Ok raga Devo riuscire a vincere il premio Vi ricordo che se riesco a fare 20 gol Aprirò il box di carte di calcio Quindi rimanete fino alla fine Vado Vai vai Palo no Ho preso il palo Non si posso credere Ok ragazzi Secondo tentativo Vediamo Ho preso un palo Non me lo meritavo per niente Vai 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 E con la palla da basket è difficile perché è super dura Ok ragazzi Adesso tireremo con la palla più grande del video La palla da spiaggia Guardate che roba È gigante Drago sei pronto? Sì ma non arriverà neanche in porta Ha detto che non arriverà neanche in porta Facciamogli vedere ragazzi Vai vado Vai Ma dai ma questa palla È impossibile ragazzi Tirare con sta palla Adesso tiro di punta Non diteglielo Ok ci siamo Vado Vai Fail assurdo Ecco qua Palla da rugby Non ho idea di che cosa potrebbe succedere Scopriamolo Secondo me qui ti faccio due gol Eh quella è cattiva Quella è cattiva vado Vai vai Vabbè ragazzi oggi non sono in forma E comunque se vi piace questa maglia dell'Italia che ho comprato Fatemelo sapere qua sotto nei commenti E se lasciate tanti mi piace Mi comprerò delle nuove scarpe da calcio o da calcetto Perché queste al drago non piacciono per niente Ok secondo tentativo Vado eh Vai vai E vabbè ragazzi oggi niente Oggi non va Adesso basta Userò la palla di Olli e Benji ragazzi Proprio così Perché è ora di fare più gol Siamo solo a cinque Ok ragazzi ci siamo Tiro della tigre Mi sa più che era tiro di un gatto speracchiato Ok ci riproviamo Ci riproviamo raga Adesso non si scherza più Basta Vado Siamo a sei Forza Ok ragazzi adesso tirerò col pesce palla Pesce palla L'avete capito Ok secondo me non arrivo in porta eh Vado Vai vai Oh No Era sulla traversa ma l'ha presa assurdo Secondo tentativo per il pesce palla Via Oh E' il pesce palla Va il red Ok siamo a sette gol La strada è ancora lunga Pallone piccolo da spiazza Vediamo Drago ti distruggo Vai vai distruggimi Vado Via No Ma ragazzi Non posso perdere perché altrimenti il drago aprirà il pacchetto al posto mio Vado Vai vai Ora si gioca a tennis Palla da tennis gigante Sono a sette gol Qui minimo ne devo fare due Due Vado Vai vai E uno Ok via col secondo raga Vediamo Vado drago Vai vai Niente ragazzi il drago è troppo forte Ok le palle emoji La palla della cacca La palla del sorriso E la palla arrabbiata Un tiratessa Vediamo se riesco a fare gol Questo è speciale perché sono tre tiri eh Sono tre tiri questi Vado Vai vai Via col primo Presa Vai con la seconda Via Presa anche questa Fantastico Sono una schiappa ragazzi Mi devo esercitare Vai con l'ultima Fuori di fuoco Spiorato il palo fuori per poco Ma non ci siamo Ok ragazzi Una palla gigante di polistirolo Secondo me non arriva nemmeno alla porta Si distrugge Ci proviamo però Sei pronto drago Che questo arriva forte Praticissimo Vado Vai Via Oh Mamma mia Però è fuori Ok Seconda occasione Qua devo fare gol Rimangono pochissimi palloni Vamos Vai vai Via Niente ragazzi è inutile Devo esco sitare un piano per fare gol al drago Ok Palla di spugna Speriamo in bene Raga siamo solo a otto gol Non so se ce la faccio Ma ci proviamo Let's go Via E vabbè Cioè Assurdo Comunque sono le palle più strade del mondo È normale che non riesco a fare gol Ok riproviamo Ci vado eh Vai vai Ci siamo Via E vabbè ragazzi Deve vincere lui Ok Un mappamondo La scalata per i 20 gol È difficile Se non impossibile ormai Ma almeno voglio farne 10 Ci siamo Nulla da fare Secondo tentativo con il mappamondo E si è bloccata Ok La palla matta Qui si distrugge Siamo Mai Questa non arriva neanche in porta Secondo tentativo Niente Ok La palla dado Vediamo Drago di un numero da 1 a 6 5 5 Vediamo Nulla Ultimo Col dado Via Imbarazzante oggi Ok ragazzi Rimangono queste due cose Cioè Non si possono nemmeno definire Palloni Allora Come tutti sapete Io faccio atletica Non sono un calciatore Non sono molto bravo Ma se questi video vi piacciono Io continuerò ad allenarmi Insieme al super portiere Drago Quindi mi raccomando Tanti mi piace Ok Un tiro a testa con queste due Tanto la sfida ormai è finita Vado Drago Vai Uno Niente Non arriva neanche in porta quella Due Scatola di cartone Fail Assurdo Il vincitore È il Drago Ok ragazzi Il cofanetto purtroppo Non l'ho vinto io Ma l'ha vinto il Drago Grazie mille Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Da noi e tutte Ci vediamo Al prossimo video di calzo Ciao Ciao